...quanta sabato. Si preparino, si usca Marco, Magliano Maurizio. ...categoria 85, 63 kg, terza classificata, Busi Paolo, seconda classificata, Gabi Muc, prima classificata, Borgogno Loredani. ...vince Bultini, Giacobbo, seconda classificata, Susa Cane, Panico Massimo, Capasso Michele, finale terza e vento posto. ...preme l'arbitro mondiale, Gianluigi, Milti. ...si preparino di Matteo Andrea e Reggio Gabriele, finale primo e secondo posto. ...vince giudici. ... Grazie a tutti.